Alex Gisea Giovadu è un artista che è arrivato qui a Venezia grazie alla Venice Dem Art Gallery e ci offre un omaggio ai Rolling Stones abbiamo infatti questa chitarra che sembra con i suoi rossi volerci mangiare l'energia il bello che dentro al suo rimbombo acustico sicuramente pervade poi tutto il suo intorno è un'opera in cui l'oggetto è in primo piano proprio per farci capire l'importanza della musica nel contesto di tutto l'universo grazie a questo artista grazie a tutti